Il Cesena-Rasi è una partita delicatissima, classifica alla mano e possiamo dire anche vietato fallire? Vietato fallire sì, soprattutto dopo la partita di mercoledì ci vogliamo riscattare, vogliamo dare seguito alla vittoria della scorsa settimana in campionato. È una partita molto importante, affrontiamo una squadra importante come noi e sarà sicuramente una partita che potrà dare anche una svolta a questo campionato. Dicevamo vietato fallire perché guardando la classifica, guardando i punti che ha perso per Stato il Pescara non vi potete permettere più passi falsi? Certo, certo, c'è sempre da ricordare dall'altra parte c'è una grande squadra ma sicuramente noi scenderemo in campo con il piglio giusto per portare a casa i tre punti e poi il campo deciderà. Tu che ti stai allenando regolarmente con la squadra, come hai visto Dursi dopo quel problema che hai avuto? Eugenio è un giocatore molto importante, per noi sicuramente è un grande rientro, siamo molto contenti di averlo ritrovato. Ma come lui tutti quanti ci stiamo allenando bene e vogliamo dare una svolta, come ho già detto, a questo campionato. È arrivato da qualche giorno Iacobucci, non so se vuoi mandare un messaggio a Di Gennaro che sul suo profilo Instagram ha detto farò di tutto per tornare prima possibile. Raffa era oggi al campo, ci ha venuto a trovare, ci ha fatto piacere ritrovarlo e purtroppo è successo però questo fa parte anche del calcio. Lo aspettiamo con ansia e diamo il benvenuto al nuovo portiere Iacobucci.